Con Matteo Di Martino, uno dei protagonisti di questa splendida vittoria da parte della Virtus Fondi, 4 su 4 si rimane in testa al girone, vi siete doti proprio dal vostro fianco, dalle vostre spalle, forse una fastidiosa avversaria. Sì, è una squadra molto fastidiosa, sapevamo che era dura, l'abbiamo preparato molto in settimana e oggi il campo ci ha dato ragione. Adesso siamo solo all'inizio e ancora è lungo, sappiamo di aver fatto niente, il campionato è lungo e speriamo bene. Ecco però in uno scontro molto molto importante vi siete dimostrati squadra a questo punto da battere? Beh, i fatti dicono questo e adesso col tempo solo il campo ce lo dirà questa cosa. Sicuramente lo Scauri ci ha dato o tanto filo da tosce, complimenti a loro e un bocca al lupo del campionato. Mister Andrea Cardillo, una sconfitta pesante per il suo atletico Scauri, sicuramente non aspettata di certo questa sconfitta. No, probabilmente nel punteggio non ci aspettavamo, oddio, sapevamo benissimo che le nostre possibilità di vittoria oggi non erano molto alte, però voglio dire comunque fino al gol del portiere al trentesimo ci siamo stati in gara, ci siamo giocati la nostra partita. Anche sul 5-2 la partita ancora era aperta perché abbiamo avuto diverse occasioni per fare il gol davanti al portiere. Poi purtroppo al tre minuti dalla fine ho voluto provare il portiere di movimento ma era solo una mossa della disperazione per quantomeno accorciare le distanze. Ecco mister, nel secondo tempo veramente una squadra trasformata, primo tempo molto più votata all'attacco, difendeva molto bene, riusciva a ripartire anche meglio. Nel secondo tempo forse loro hanno alzato la pressione e per voi non dico che si è fatta notte fonda, anche se sapevate respingere gli attacchi loro però forse con minore incisività. Sì, in effetti siamo stati meno incisivi rispetto al primo tempo. Loro è vero che hanno alzato la pressione, però noi negli spugliatori avevamo preparato delle contromosse adeguate, cioè quantomeno avevamo cercato di giocare la palla sugli esterni alti perché loro venivano tre dentro e lasciavano almeno 15-20 metri di campo. Purtroppo non ci è riuscito, anzi qualche volta siamo arrivati anche davanti al portiere, l'abbiamo fatto ma molto sporadico, ci siamo abbassati troppo nella difesa. Poi abbiamo avuto l'infortunio del quinto gol che purtroppo il calciatore avversario, chiesto scusa, ha sbagliato a calciare e ha messo la palla nell'angolino.